Buongiorno, benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti in cui parleremo di espressioni regolari. Le espressioni regolari sono uno strumento molto utilizzato all'interno di tutti i linguaggi di programmazione per andare a riconoscere delle sequenze di caratteri ed estrarre dei sotto elementi. Più nello specifico, un'espressione regolare è uno strumento che permette di andare a descrivere una sequenza di caratteri e di fare l'operazione inversa, ovvero riconoscere una sequenza di caratteri e le sue sottocomponenti. Ovviamente possono essere utilizzati per andare a generare, ma anche per andare a riconoscere. Quindi, teoricamente, abbiamo questi due aspetti. Ovviamente l'aspetto molto più interessante e più utilizzato è quello di riconoscimento. Come è fatta un'espressione regolare? Sostanzialmente è una sequenza di caratteri più operatori. Gli operatori sono quelli che vedete elencati qui. Ovviamente li vedremo uno per uno cercando di capire quali sono, però vedete che sono normalmente caratteri speciali, mentre invece le lettere, i numeri, i caratteri normali all'interno di un'espressione regolare rappresentano sostanzialmente se stessi. Se io devo utilizzare, all'interno di un'espressione regolare, un carattere particolare, ad esempio voglio utilizzare un più, ecco che devo andare a utilizzare il carattere di quotazione, ovvero il backslash. Quando io vado a concatenare una serie di elementi, di espressioni regolari a loro volta, sostanzialmente sto andando a descrivere quella che è la concatenazione di quelle sottoespressioni regolari. Per cui se io vado a concatenare i caratteri V, A, L, I, I, 1, sostanzialmente vado a riconoscere la sequenza con questi caratteri. Posso utilizzare l'operatore punto interrogativo per andare a indicare che quanto precede questo operatore è opzionale, per cui A, B, punto interrogativo C, significa che il punto interrogativo si applica a quanto immediatamente precede, ovvero alla lettera B, per cui questa sequenza, questa espressione regolare, è in caso di riconoscere sia la sequenza A, C, che la sequenza A, B, C, dove B, sostanzialmente, è l'elemento opzionale. Un altro operatore che posso utilizzare è l'operatore di scelta, che permette di andare a definire due alternative. Per cui A, B, pipe, C, D, significa che la mia espressione regolare è in grado di generare, barra riconoscere, la sequenza A, B oppure la sequenza C, D. Come vedete c'è una differenza in termini di priorità degli operatori, per cui l'operatore punto interrogativo ha una priorità più elevata rispetto alla semplice concatenazione, infatti il punto interrogativo si applica soltanto alla B, mentre invece l'operatore di pipe e di alternativa ha una priorità più bassa, per cui ovviamente vale prima la concatenazione tra A e B e poi l'altra scelta, la stessa cosa tra C e D. Quindi, in questo caso, l'operatore si applica A, B oppure C, D. Posso anche andare a specificare una scelta tra una quantità di caratteri. Ovviamente io posso andare a descrivere come una serie di alternative con la pipe, ma in maniera molto più comparsa posso utilizzare quelli che sono dei character set, ovvero una sequenza di caratteri racchiuse tra parentesi quadre. Per cui, ad esempio, quadra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chiusa a quadra rappresenta un qualunque cifra numerica. All'interno di un character set il trattino rappresenta un intervallo, per cui 0 trattino 9 significa tutti i caratteri che vanno da 0 a 9. Ovviamente qui andiamo a utilizzare quello che è l'ordinamento standard riconosciuto, per cui da 0 a 9, da A a Z, eccetera. Dipende questo ovviamente dal set di caratteri che noi stiamo utilizzando, anche se normalmente tutti i set di caratteri sono più o meno derivati da set di caratteri ASCII, quindi possiamo tranquillamente andare a utilizzare questo tipo di notazione facendo riferimento a quell'ordine di caratteri. Ovviamente se io volessi andare a includere il trattino all'interno del mio set di caratteri, lo posso fare purché io lo metta come primo o come ultimo carattere. Per cui meno più 0 trattino 9 va a identificare qualunque carattere che sia un carattere numerico da 0 a 9, il più o il meno. Posso anche andare a definire un caratter set in maniera negata. Questo lo posso fare andando a inserire l'accento circonflesso come primo carattere e questo ovviamente è un operatorio che mi dice che il set di caratteri è qualunque carattere tranne quelli che sono elencati successivamente. Per cui l'accento circonflesso 0 trattino 9 significa qualunque carattere tranne i caratteri numerici. Un altro insieme di operatori importante è quello che permette di andare a indicare le ripetizioni. L'operatore più sostanzialmente è quello che mi permette di andare a indicare una ripetizione fatta una o più volte di quello che precede. Per cui AB più C significa sostanzialmente che io posso andare a ripetere la lettera B una o più volte. Quindi questo andrà a riconoscere le sequenze della forma ABBC, ABBC, ABBBBC, eccetera. L'operatore asterisco invece indica una ripetizione 0 o più volte. Per cui AB asterisco C significa che l'operatore asterisco che si applica a lettera B permette di andare a identificare qualunque sequenza che inizi con la A, termini con la C e in mezzo abbia un numero qualunque di B da 0 a salire. Se invece io voglio essere più specifico posso andare a utilizzare le graffe con due numeri che indicano il valore minimo e il valore massimo di ripetizioni di quella che è l'espressione precedente. Vediamo alcuni esempi di espressioni regolari. 0 trattino 9 come set di caratteri più significa una qualunque sequenza di cifre numeriche da 0 a 9 ripetuta una o più volte e questo se volete è un modo semplice di andare a descrivere un intero positivo. Ovviamente questo tipo di espressione regolare è in grado di andare a generare anche una sequenza che ha tutti i zeri. 0 fa parte del caratter set, lo posso ripetere una o più volte quindi posso scrivere tutta una sequenza di zeri. Cosa che magari non è così comune o non è accettata da tutti i linguaggi. Per cui volendo evitare una sequenza di tutti i zeri quello che posso fare è andare a definire un'espressione di questo tipo. Quindi un carattere qualunque da parte che è da 1 a 9 oppure, scusate, seguito da una ripetizione 0 o più volte dei caratteri da 0 a 9 oppure lo 0. Per cui lo 0 è descritto da un unico carattere 0. Altrimenti ho un numero che inizia con una cifra che tra da 1 a 9 seguito da un altro numero, eventualmente nessuno, di cifre numeriche. Volendo estendere ulteriormente questa espressione regolare, quello che posso fare è andare ad aggiungere, ad esempio, più, meno, punto interrogativo, vuol dire che posso scegliere un carattere tra più e meno e questo carattere è opzionale e poi è seguito dall'espressione regolare che vediamo riportata qua. Un modo di andare a rappresentare le espressioni regolari, oltre alla loro rappresentazione primaria tramite una stringa, è quello di utilizzare quello che si chiama un Railroad Diagram, ovvero un diagramma a binari in cui c'è un punto di partenza, un punto di arrivo e quello che posso fare è seguire i binari, per cui nel caso del segno opzionale quello che posso fare è scavalcare questo blocco oppure entrare in questo blocco che vuol dire che devo accettare uno di questi due caratteri. Ovviamente all'inizio io posso saltare tutto e andare a riconoscere esclusivamente lo 0 e terminare. Oppure, dopo aver selezionato il più o il meno, il che vuol dire che il più e il meno non possono essere messe davanti allo 0, quindi questa espressione regolare non è in grado di riconoscere più 0 o meno 0, è una scelta, può essere voluta o meno. A questo punto quello che posso fare è andare a riconoscere uno dei numeri tra 1 e 9 e poi posso andare a finire oppure andare a riconoscere il numero, un altro cifra tra 0 e 9 e a questo punto posso o terminare oppure ripetere e riconoscere un'altra cifra. Quindi questo è un modo compatto di andare a descrivere in maniera grafica una espressione regolare. Ovviamente la compattezza che otteniamo utilizzando un'espressione puramente di caratteri è ovviamente irraggiungibile, però utilizzare un Red Road Diagram può essere utile per andare a capire meglio cosa fare. Vediamo qualche altro esempio di espressioni regolari. Questa è un'espressione regolare che permette di andare a definire un floating point. Qui andiamo a definire due varianti che permettono di andare a scrivere dei numeri nella forma punto 5 o 1 punto senza mettere i decimali o senza mettere la parte intera. Per cui oltre alla parte di segno opzionale che troviamo qua abbiamo una variante in cui ho le cifre da 0 a 9 in realtà potete utilizzare la soluzione che abbiamo visto prima con gli interi per evitare di mettere sequenze di zeri quindi ripetuti uno più volte punto eventualmente nulla oppure una ripetizione più volte delle cifre da 0 e 9. L'altro ramo alternativo che è sostanzialmente l'alternativa che ci viene data da questa scelta è quella di avere eventualmente nessuna cifra iniziale il punto e poi una ripetizione di almeno una volta di quello che è una cifra da 0 e 9. Altro tipo di espressione quella che possiamo andare a utilizzare per andare a riconoscere le stringhe in un linguaggio di programmazione. Ovviamente le stringhe iniziano con un apice terminano con un apice, lo vediamo qua dopodiché potrebbero non contenere nulla e quindi abbiamo questa alternativa oppure potrebbero contenere caratteri che non sono né un apice né un backslash oppure se troviamo un backslash ci aspettiamo che sia seguito o da un apice per cui se vogliamo andare a quotare una stringa lo facciamo in questo modo oppure una n, quindi backslash n per la capo backslash r, backslash t ovviamente qui non li ho elencati tutti i caratteri particolari ma è ovvio che ce ne saranno altri a questo punto dopo che ho un carattere che non sia né apice né backslash oppure backslash seguito da uno dei caratteri validi posso o terminare oppure ripetere un'altra volta una di queste scelte in generale quando io ho a che fare con le espressioni regolari ci sono alcuni caratteri particolari ad esempio il carattere punto rappresenta qualunque carattere che non sia una capo ovviamente se voglio andare a rappresentare il punto devo quotarlo con un backslash e poi abbiamo backslash n che rappresenta la capo esattamente come nelle stringhe backslash s che rappresenta un carattere di spaziatura quindi lo spazio, la tabulazione eccetera backslash d che rappresenta un qualunque carattere numerico sostanzialmente equivale a mettere quadra 0-9 chiusa quadra ovviamente usando meno caratteri backslash w è una qualunque carattere che può comparire in una parola o quello che definiamo in un linguaggio di programmazione un identificatore per cui può essere i caratteri da z maiuscoli quelli da z minuscoli un qualunque cifra numerica oppure l'underscore abbiamo oltre a questi caratteri due caratteri molto speciali che non corrispondono a nessun carattere riconosciuto all'interno della stringa che è l'inizio per cui quando io metto l'apice significa che quanto segue deve essere all'inizio della mia stringa oppure il dollaro che rappresenta la fine per cui vuol dire che quello che precede deve essere proprio alla fine della mia stringa abbiamo menzionato prima dei differenzi ordini di priorità in generale la priorità più alta è il carattere di backslash l'escape poi abbiamo il caratter set quindi vale più degli altri caratteri poi abbiamo le eventuali ripetizioni diciamo 0,1 1 più 0 più oppure un numero predefinito con minimo e massimo la concatenazione e poi l'alternativa con la pipe ovviamente io posso andare a utilizzare le parentesi aperte e chiusa per definire dei gruppi che mi permettono di rispettare delle priorità che altrimenti sarebbero diverse per cui in questo caso racchiudendo da parentesi tonde questa scelta il punto interrogativo si applica alla scelta tra A e B oppure C di più se io mettessi il punto interrogativo senza questa coppia di parentesi tonde il punto interrogativo si applicherebbe ovviamente soltanto a C di più le parentesi tonde possono essere utilizzate all'interno delle espressioni irregolari anche per andare a identificare quelli che sono dei gruppi di cattura abbiamo detto che le espressioni irregolari sono utili per andare a riconoscere delle sequenze a volte è utile andare a riconoscere all'interno di una sequenza una sottosequenza che gioca un ruolo particolare ad esempio nell'espressione molto semplice che vediamo qua che permette di andare a identificare un valore intero con un segno opzionale vedete che la prima coppia di tonde racchiude il carattere più o meno la seconda coppia di tonde riconoscere la ripetizione 1 più volte delle cifre da 0 a 9 per cui il gruppo 1 è il segno opzionale il gruppo 2 è la sequenza di cifre e esiste sempre un gruppo 0 che rappresenta sostanzialmente tutta l'espressione irregolare ovvero tutto quanto riconosciuto dall'espressione irregolare la stessa cosa ovviamente la possiamo andare a vedere in termini di diagramma di railroad in cui il gruppo 1 è la prima parte e il gruppo 2 è la seconda cosa servono i gruppi? servono per esempio quando vado a riconoscere una cifra un numero intero per andare a separare all'interno del numero intero il segno da quelli che sono le cifre numeriche per poter poi andare a riconoscerlo e a costruire effettivamente il valore intero tutto quanto detto finora sostanzialmente si applica a espressioni irregolari in qualunque linguaggio a noi interessa però in questo momento andare a parlare di espressioni irregolari in Java come funzionano le espressioni irregolari in Java? sostanzialmente le espressioni irregolari si basano su una serie di classi che si trovano nel package Java, Udil o Egex in particolare ci sono due classi principali che sono Pattern e Matcher Pattern rappresenta un automa che è in grado di riconoscere un'espressione irregolare e quindi rappresenta l'espressione irregolare il Matcher è sostanzialmente uno strumento che a partire da un'espressione irregolare e da una stringa che deve riconoscere applica il riconoscimento e restituisce la stringa la sequenza di carattere riconosciuta ed eventualmente i sottogruppi se sono definiti all'interno del Matcher io ho tre metodi principali che sono Matches, Looking at e Find che permettono di andare a fare un riconoscimento cercare di fare un riconoscimento parziale e fare un'operazione di Find che cerca di andare a fare un riconoscimento eventualmente non dall'inizio della mia sequenza Matches vuole che sostanzialmente mi dà un valore booleano e mi dice se l'intera stringa può essere generata a partire dall'espressione irregolare oppure se l'espressione irregolare è in grado di riconoscere l'intera stringa quindi se io trovo dei caratteri spuri all'inizio o alla fine che non corrispondono all'espressione irregolare il Matches mi dà un risultato falso il Looking at che cosa fa? mi fa la stessa operazione ma mi permette di avere dei caratteri spuri alla fine della stringa quindi è in grado di riconoscere la prima parte della stringa finché l'espressione irregolare è in grado di riconoscere e poi scarta sostanzialmente quello che c'è alla fine il Find invece è in grado di andare a cercare all'interno della stringa qualunque cosa corrisponda all'espressione irregolare ed eventualmente scartando caratteri iniziali o eventualmente caratteri alla fine che non sono corrispondenti a quanto descritto dall'espressione irregolare c'è poi un altro metodo che si chiama Group che permette di andare a una volta che abbiamo riconosciuto la stringa intera dall'inizio scartando gli elementi oppure una sottostringa all'interno della stringa data di andare a estrarre quelli che sono i sottogruppi del riconoscimento quindi come facciamo a fare un'operazione di riconoscimento? allora innanzitutto andiamo a costruire un pattern lo costruiamo a partire dal metodo statico compile quindi pattern.compile prende una stringa e la interpreta come espressione irregolare quindi va a costruire l'oggetto pattern che rappresenta l'espressione irregolare poi faccio p.matcher quindi vado a creare un matcher che utilizza questa espressione irregolare e la applica a una stringa attenzione il p.matcher sostanzialmente non fa nessun riconoscimento inizia, inizializza tutto l'espressione irregolare viene poi applicata e viene fatto riconoscimento quando io chiamo il metodo matches matches quindi va ad applicare l'espressione irregolare la riconosce, mi restituisce un valore true se la stringa effettivamente corrisponde all'espressione irregolare senza nessun carattere spurio e successivamente posso andare a utilizzare i metodi group ad esempio 1 e 2 per andare a identificare il gruppo 1 che corrisponde al segno e il gruppo 2 che corrisponde invece alle cifre numeriche per cui questa operazione di riconoscimento mi darà come segno quindi come gruppo 1 il meno e come cifre i caratteri 4, 5, 6 e 0 una variante è quella di utilizzare il metodo find che a differenza del matches sostanzialmente è in grado di riconoscere una sottostringa soprattutto visto che è in grado di riconoscere una sottostringa è in grado di ripetere il riconoscimento più volte andando ovviamente ad applicarlo alla parte restante della stringa che non è stata ancora riconosciuta per cui posso utilizzarlo all'interno di un ciclo Y a questo punto se io applico find a questa sequenza di caratteri andrò a riconoscere ovviamente più 42, meno 3 e 0 ottenendo questa sequenza di riconoscimenti quindi più è 42, segno e cifra, meno 3, nulla perché in questo caso non c'è il segno e 0 vediamo un esempio un po' più sofisticato di espressione regolare ad esempio quella che possiamo utilizzare per andare a riconoscere il linguaggio HTML il linguaggio HTML ha diversi elementi ha gli elementi che sono i tagri contenuti all'interno dei minore e maggiore sequenze di testo oppure quelle che si chiamano entity che iniziano con una e commerciale per cui posso riconoscere uno di questi tre elementi in alternativa e ognuno ovviamente è un gruppo di cattura per cui ogni volta che vado a fare un riconoscimento se il gruppo 1 contiene qualcosa vuol dire che è un elemento se il gruppo 2 contiene qualcosa vuol dire che è un'entità se il gruppo 3 contiene qualcosa vuol dire che si tratta di una sequenza di testo come sono fatti? allora nel primo caso abbiamo un minore qualunque carattere tranne il maggiore ripetuto uno più volte e poi il segno di maggiore l'entità HTML è una e commerciale qualunque caratter word ripetuta scusate word caratter ripetuto uno più volte seguito, terminato da un punte virgola oppure nel caso del testo qualunque carattere tranne il minore e la e commerciale ripetuto uno più volte ovviamente questa definizione è semplificata perché ci sono ovviamente delle varianti o delle soluzioni alternative però sostanzialmente è in grado di riconoscere probabilmente il 90% del codice HTML la stessa cosa la possiamo vedere ovviamente in formato railroad dove abbiamo il gruppo 1 che contiene minore qualunque carattere tranne il maggiore e poi maggiore il gruppo 2 che contiene la e commerciale una word caratter e terminato un punte virgola oppure qualunque carattere che non sia nel minore nella e commerciale come possiamo utilizzare questa espressione regolare in questo modo quindi facciamo un'operazione di compile di quella che è l'espressione regolare che abbiamo visto prima andando a costruire un oggetto pattern chiediamo all'oggetto pattern di costruire un matcher a partire applicato a una stringa che in questo caso è il codice HTML che vogliamo andare a riconoscere e poi andiamo a definire questi tre nomi element, entity e text che utilizzeremo in corrispondenza del gruppo 1, 2 e 3 per cui cosa faccio? finché riesco a trovare un match di questa espressione regolare ovvero l'entità, scusate, l'elemento, l'entità oppure il testo cosa faccio? vado avanti faccio una scansione su i gruppi che ho trovato se il gruppo i è diverso da nullo allora significa che ho trovato un elemento del tipo i ovviamente l'espressione regolare o riconosce un elemento o riconosce un'entità oppure riconosce un text quindi di questi tre gruppi soltanto uno potrà essere diverso da nulla gli altri saranno ovviamente nulli a questo punto posso andare a stampare il nome del tipo visto che partiamo che questo è il gruppo 1 dovrò fare type meno 1 due punti e il contenuto del mio gruppo racchiuso tra singoli apici oltre a quanto abbiamo visto è possibile andare a utilizzare una caratteristica particolare che è quella dei gruppi con nome per cui se io un gruppo oltre a chiuderlo tra tonde vado a utilizzare questa sintassi quindi punto interrogativo minore il nome del gruppo maggiore sostanzialmente assegno un gruppo a questo nome e quindi successivamente posso utilizzare il metodo group del matcher passando il nome del gruppo per accedere a quel particolare alla sequenza di caratteri riconosciuta da quel particolare gruppo possiamo andare a riscrivere quindi l'espressione regolare che ci permette di riconoscere l'html utilizzando i nomi dei gruppi in particolare possiamo utilizzare element, entity e text che sono i nomi che abbiamo utilizzato prima per andare a riconoscere per l'appunto un tag un'entità e il testo quindi come al solito faccio un'operazione di compile faccio un matcher ho i nomi dei miei tre gruppi faccio un find finché riesco a riconoscere uno di un elemento corrispondente a quell'espressione regolare dopodiché faccio un ciclo sui miei gruppi finché trovo che quel tipo non è nullo e quindi stampo il nome del tipo scusate il nome del gruppo e il corrispondente testo riconosciuto da quel gruppo di cattura un'altra caratteristica molto avanzata delle espressioni regolari è la possibilità di andare a verificare che l'espressione regolare sia preceduta oppure seguita da alcune sequenze di caratteri ovviamente le sequenze di caratteri che precedono o seguono la nostra espressione regolare non vengono riconosciuti queste due caratteristiche vengono chiamate look behind e look ahead ovvero io posso andare a specificare un'espressione regolare dicendo che la voglio riconoscere soltanto se è preceduta da un'altra espressione regolare oppure non è preceduta da un'altra espressione regolare oppure la voglio riconoscere soltanto se è seguita da un'altra oppure non è seguita da un'altra espressione regolare. Queste espressioni regolari che io vado a definire look ahead e look behind non vengono riconosciute all'interno della mia espressione e quindi non vengono poi messe a disposizione tramite il metodo group del match. La sintassi è la seguente, quindi quando io voglio fare un look behind, quindi voglio poter riconoscere un'espressione regolare soltanto se è preceduta da qualcos'altro, posso utilizzare aperta tonda, punto interrogativo, minore uguale e poi l'espressione regolare che io voglio che sia presente prima, ma non voglio essere riconosciuta come parte della sequenza di caratteri che io voglio andare a riconoscere. Posso avere anche un look behind negativo, quindi punto interrogativo minore punto esclamativo mi garantisce che io vada a riconoscere l'espressione regolare soltanto se non è preceduta da qualcosa che può essere riconosciuta da questa espressione e. Il look ahead invece va a verificare che una volta che ho riconosciuto l'espressione regolare questa sia effettivamente seguita da qualcos'altro, ma questo qualcos'altro non viene riconosciuto come parte della sequenza della mia espressione regolare, quindi utilizzerò punto interrogativo uguale e l'espressione che io voglio che segua quella che ho riconosciuto oppure punto interrogativo, punto esclamativo e, e quindi questo evita che e segua la mia espressione riconosciuta. Come funziona il riconoscimento delle espressioni regolari? Sostanzialmente un'espressione regolare può essere trasformata in quello che si chiama un automa non deterministico a stati finiti. C'è un algoritmo specifico che si chiama Thomson-McNaughton-Yamada che fa questa operazione. Il problema di un automa non deterministico sta proprio nell'essere non deterministico e quindi non avere uno stato unico. Per cui, perché sia effettivamente e computazionalmente utilizzabile, deve essere trasformato in un automa deterministico, quindi un NFA deve essere trasformato in un DFA. A questo punto un automa deterministico è sostanzialmente quella che si chiama una macchina stati che può essere tranquillamente codificata in maniera molto compatta ed eseguita in maniera molto efficiente. Tanto per darvi un'idea, quando io utilizzo un'espressione regolare di questa forma, quindi un segno opzionale seguito da una sequenza di caratteri in cui compaiono uno o più cifre, questo può essere trasformato in un automa non deterministico in cui ho delle transizioni tra i diversi stati che corrispondono eventualmente al riconoscimento di nessun carattere e questo successivamente può essere trasformato in un automa deterministico che contiene solo tre stati e che sostanzialmente permette di fare una transizione da uno stato all'altro soltanto in base al riconoscimento di un qualche carattere specifico e quindi non ho più i caratteri epsilon che qui erano non deterministici, quindi potevano essere riconosciuti o meno. In questo caso, quando ho un carattere, faccio una transizione da uno stato all'altro oppure resto nello stesso stato. Una classe che utilizza le espressioni regolari è la classe scanner. Si tratta sostanzialmente di una classe che offre dei metodi per andare a leggere delle sequenze di caratteri e riconoscerle ed elaborarle in seguito al riconoscimento. Io posso andare a costruire una classe scanner utilizzando diversi tipi di fonti di stringhe. Posso utilizzare un file, posso utilizzare un file reader o uno stream, posso utilizzare direttamente una stringa. Come faccio a utilizzare la classe scanner? Beh, sostanzialmente la creo a partire da una delle fonti che abbiamo visto prima. Posso andare a verificare se esiste nella sequenza di stringhe un token di un certo tipo, ad esempio utilizzando il metodo snext seguito dal tipo di un token. Qui esistono le varie varianti di questo metodo per tutti i tipi primitivi. Dopodiché posso andare a leggere il prossimo token utilizzando il metodo next e il tipo di token. Questo sostanzialmente utilizza l'espressione regolare corrispondente a quel token, legge la sequenza di caratteri e me la converte opportunamente. Ovviamente posso andare a fare un utilizzo più avanzato di uno scanner andando a creare uno scanner che legga riga per riga utilizzando il metodo snext line per avanzare di linea in linea e verificare se effettivamente c'è un'altra linea e utilizzare il metodo find in line a cui passo un pattern per identificare la corrispondenza con una espressione regolare. Ad esempio, volendo andare a leggere in maniera molto semplificata un file di tipo CSV io posso utilizzare uno scanner lo scanner implementa l'interfaccia auto-closable quindi può essere utilizzato all'interno di un try with resource quindi lo scanner a partire da un file che cosa fa? All'interno di un ciclo infinito vado a leggere all'interno di una linea ciò che corrisponde a un pattern nel pattern specifico è una qualunque sequenza di caratteri tranne la virgola se trovo qualcosa allora vado a elaborare la cella del mio file CSV in particolare in questo caso semplicemente lo stampo altrimenti se non riesco a trovare una sequenza che corrisponde al pattern che ho specificato che cosa faccio? Verifico se ho una prossima linea da elaborare se non c'è salto fuori dal mio ciclo altrimenti avanzo alla prossima linea e quindi sulla prossima linea andrò a ripetere la ricerca di questo pattern finché riesco e dopodiché sostanzialmente avanzo sulla linea successiva quindi in sintesi le espressioni regolari permettono di andare a esprimere delle sequenze complesse di caratteri li posso utilizzare tramite le classi pattern che corrisponde a sostanzialmente un automa e a matcher che è l'esecutore dell'automa e posso utilizzare le espressioni regolari in tanti contesti ad esempio il metodo replaceAll ma anche il metodo split della classe string permettono di andare a specificare delle espressioni regolari che vadano a definire ciò che devo sostituire oppure come sono fatti i separatori in base a cui devo andare a suddividere la mia stringa e ovviamente all'interno della classe scanner posso utilizzare il metodo finding line per andare a identificare più occorrenze di una certa espressione regolare ripetute all'interno di una stessa linea del mio stream di input corte e guardate